Buonasera, buonanotte a tutti. Innanzitutto il più fortale bentornato ad Antonio Prete. Ha insegnato la letteratura comparata all'Università di Siena, è uno dei più originali intellettuali italiani, noto per l'ampiezza dei suoi interessi e per la suggestione delle proposte interpretative. Tra le sue opere ricordiamo quelle presentate in questa sede, il 15 ottobre 2008, Trattato della lontananza, il 28 maggio 2014, Compassione, Storia di un sentimento, il 26 aprile 2017, Il cielo nascosto, Grammatica dell'interiorità, e il 5 dicembre 2018, Nostalgia, Storia di un sentimento, il 7 ottobre 2020, La poesia del vivente, Giacomo Leopardi, con noi. Come studioso di Leopardi, è autore di numerosi libri che hanno consentito di guardare in modo del tutto inedito alle opere del grande poeta, a partire dal pensiero poetante, fino al demone dell'analogia, da Leopardi e Valerì, studi di poetica, del 1986, al dialogo su Leopardi, ancora del 1986, insieme con Salvatore Natori, e a Finitudine e Infinito, su Leopardi, del 1998. Con noi è la mia famiglia. Ha insegnato a Bologna, a Siena, è stata Fulbright, professor, presso l'Università di Chicago. Ha ricevuto vari premi, ha scritto racconti, libri di viaggio, traduzioni e anche monografie e racconti di saggi, in particolare su Montale e Sterelli. Ha curato l'edizione di testi inediti orari, di Dossi, Montale, Giacomo e Pauli Leopardi. Lettere, 1812-1835, e Albert Scalù, Miseria della Capiglia, 2011. E Gaspari Polizzi, storico della filosofia, della scienza, membro del Comitato Scientifico del Centro Nazionale di Studi Leopardiani, insegna attualmente pedagogia generale e sociale all'Università di Pisa. Ha insegnato storia della filosofia presso la Iul, Università di Firenze. Esige la collana leopardiana per l'edizione Mimesis, numerose le sue pubblicazioni, tra le quali ricordiamo L'infinita scienza di Leopardi, con Giuseppe Mussaldo, 2019. Il 12 febbraio 2021, e Corporalità e Natura Leopardi, il 2 febbraio 2024. Ha curato inoltre, con Gabriele Agiglioni, Leopardi e la filosofia di Demo Bodei, con Francesca Deano e il commento a Leopardi, di Carlo Deano. Il libro che Antonio Prete offre alla nostra riflessione prosegue il cammino intorno ai modi del sentire. Nostalgia, montananza, compassione, interiorità. Un'autentica grammatica dell'amore, a partire dal patrimonio della poesia, della narrativa, delle arti, ne emergono così alcune figure. Turbamento, turbamento segreto, ostacolo, apparizione, seduzione, tenerezza, ombra, lettera, gelosia, e alcuni paesaggi, giardino, mare, stanza, trama, corrispondenti ad altrettante declinazioni dello stesso sentimento. L'amore, si può solo provare a dire, nominare qualcosa nella sua lingua, affacciarsi, lasciare che appaia, che qualcosa si dia a vedere, nel tentativo sempre fallito, di un'ultima parola, di una verità. L'idea dell'amore è sostare nello stesso scacco cui l'esperienza dell'amore ci consegna, una pienezza e il suo luogo, una necessità e un impossibile, un dappertutto e un sempre altrove. Per gli appalti, l'amore è la più dolce, più cara, più umana, più potente, più universale delle pressioni. Come il grande poeta, scrive nell'Uzibaldone, quando l'uomo concepisce l'amore, tutto il mondo si delegua dagli occhi suoi, non si vede più se non l'oggetto amato, si sta in mezzo alla moltitudine, alle conversazioni, come si stesse in solitudine, astratti e facendo quei gesti che vi spira il nostro pensiero, sempre immobile e potentissimo, senza curarsi della meraviglia né del dispenso altrui. Tutto si dimentica ed esce noioso, fuorché quel solo pensiero e quella vista, insomma, un universo dell'amore. La poesia, la narrazione, l'arte suggeriscono alcuni orientamenti in questo mondo, alcuni percorsi. Fred è attentissimo per districare diversi figli di quell'universo psichico che va sotto il nome di amore, un universo in perenne estrazione. Cedo ora la parola a Laura Maria. Prende il microfono di Anza. Si sposti il microfono. No, va bene? Fì, fì, fì. Ecco, si sente? Benissimo. No, appunto, cosa fare con questi libri di Antonio Prete che sta scrivendo da anni, come diceva Anna, Anna, la nostalgia, la lontananza, la compassione, l'interiorità e ora l'amore. Cioè, i libri su sentimenti e passioni. Dobbiamo leggerli come un romanzo o sfogliarli fermandosi ai motivi che più ci riguardano o ai temi che conosciamo o che conosciamo attraverso autori che vengono nominati. Oppure centellinarli con tutte le diramazioni e i rimandi ad altri libri, a pitture, a sculture, a musiche. Stimolati in un dialogo perché immediatamente viene da dire ah sì, però io questo è un dialogo che secondo me naturalmente bisognerebbe avere l'autore accanto che non c'è ora qui oggi sì. Però, ecco, voglio dire che tutti questi frammenti perché è un libro fatto di frammenti spingono a dire qualche cosa rispetto ai grandi che vengono nominati perché sono tutti grandissimi autori sia appunto nelle arti visive che è soprattutto nella scrittura, nella poesia e nella letteratura. E dunque, da una parte c'è un istinto di condivisione di quello che viene detto. Altre volte delle scoperte e altre volte si segue un suggerimento. Mi è capitato di leggere alcuna cosa che non conoscevo o di cui conoscevo l'autore ma non quel libro in particolare. Quindi, diciamo, è un libro secondo me che va un po' centrinato. È un libro da comodino, diurece. Perché anche se appassiona e uno vorrebbe un po' andare avanti conviene tenersi su certi terreni. E, d'altra parte, ci sono anche obiezioni e farò qualche obiezione, forse una, ma insomma. e anche altre digressioni perché è un libro di digressioni se mi posso esprimere così nel senso che da un tema poi si passa a un autore che dice certe cose e da lì si prosegue e quindi pur rimanendo all'interno della stesso cosmo mentale e artistico soprattutto ecco si va altrove anche. quindi ecco prima quindi di farsi catturare da questo racconto frammentario e fatto di frammenti tra narrativa, poesia, musica e pittura fermiamoci forse per dirne qualcosa perché è molto difficile non parlare genericamente a meno di fermarsi nei dettagli e questa sarebbe un po' la strada che io ho scelto cioè di parlare della struttura del libro e poi di alcuni autori che conosco meglio e che mi hanno ispirato appunto delle reazioni come vi dicevo e dunque questo è un libro diviso in tre parti cioè i temi sono divisi in tre parti la prima è un lungo elenco di figure figure così le chiama l'autore poi vedremo meglio di che si tratta io vorrei all'inizio parlare un po' fare alcune domande poi riprendere il discorso ma alla fine ho preferito rimandare le domande alla fine vi dico subito che una di queste sarà su cos'è una figura cosa intende da dove viene la parola che cosa cioè cosa in mente anche se si intuisce però non è tanto chiaro vabbè ma non volevo ora vorrei continuare perché rivedo il libro è grimitmo di presenze di altissimo livello e di altissimo impulso a approfondire ciò che viene detto quindi non volevo tanto confondermi e mi sono anche come vedete scritta alcune cose allora intanto diciamo subito che la forma del frammento è la forma della modernità e è iniziata con mello Zibaldone sostanzialmente c'è un discorso profondo e unitario fatto per frammenti che è appunto e dunque i frammenti chiedono un indice il primo indice e qui rapidamente dico due cose su questo del Zibaldone l'ha fatto proprio Leopardi e con mio stupore e felicità diciamo ho visto che da non tanti anni su internet c'è il manoscritto è emozionante perché vedere la scritturina dei grandi è sempre emozionante indice del mio Zibaldone di pensieri questa è la prima pagina cominciato agli inizi di luglio del 1827 in Firenze e poi c'è una piccola nota dice i primi numeri indicano le pagine dello Zibaldone nell'edizione dell'epoca gli altri i capoversi delle pagine cioè di che cosa si parla poi a questo diciamo sono seguiti tanti altri indici proposti in Semanello all'inizio anche dallo stesso Carducci ma poi comunque in seguito ce ne sono tanti altri e Flora e poi Binni Ghi Detti la puratela di Binni con l'allievo Ghi Detti fino alla più nota Pacella che che sono tre volumi così perlomeno in questa edizione Garzanti col volumetto e fino poi ancora Caccia Quoti che se non erro è abbastanza recente che c'è e poi altre insomma tentativi come dire di sistemazione di tutta questa materia per frammenti che però tornano con i temi che ritornano e quindi in modo che si possa seguire come dei sentieri attraverso questo mondo così frammentato e intenso io vi leggo solo perché non si esiste due voci nell'indice analitico dell'edizione Pacella che è del 91 e che credo che sia una delle più utilizzate e delle più importanti quella dopo la scuola anche dal punto di vista credibile la scuola allora vi leggo la voce Legopardi Giacomo ma leggo solo rapidamente l'inizio oltre all'indice appunto anche il tema diciamo allora Legopardi Giacomo vedi anche memorie della propria vita che è appunto un suo scritto dialogo della natura e di un'anima circa il fatto che l'immaginazione e la ragione impediscono all'uomo di usare tutte le sue forze naturali questo è il primo capoverso di una serie che dura due pagine e che già ti mette nel mondo di le pagine cioè l'immaginazione e la ragione che distinguono l'uomo dagli animali e quindi lo allontanano dalla natura è tutto un discorso complicato complesso e appassionante no? del tema della natura andiamo a vedere un attimo velocissimi anche i capoversi in quest'indice natura la seguivano i classici raggiungendo quella grandezza che a noi è negata dagli scrupoli dell'arte vedi anche arte altro tema fondamentale del pensiero leogardiano sui moderni e poi dal secondo capoverso grande la natura mentre la ragione è piccola madre delle illusioni e qui comincia tutto il discorso delle cose sulle illusioni che sono anche l'unica felicità data all'uomo che spera e crede in qualcosa ultimo 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 piacere piacere il più solido piacere della vita è quello vano dell'illusione quindi volevo riprendere questo solo per dire tre brevi cose come vedete di di un indice insomma il valore dell'indice si è messo in questo modo allora io volevo solo farvi osservare come in questo indice non c'è solo il tema dal punto di vista razionale e filosofico ma immediatamente c'è anche la forza poetica dell'espressione leopartiana cioè siamo già in un ambito fortemente poetico l'illusione cioè l'unico piacere della vita se l'allusione forse perché già un po' lo conosciamo e quindi risuona tutto questo discorso sul piacere dell'illusione che fa Leopardi però veramente è forte il elemento poetico anzi direi è fondamentale e a questo punto volevo proprio ricordare che Antonio Brede il primo a proposito di Leopardi ha parlato proprio di questo tema cioè pensiero poetante cioè il pensiero poetante non dimentichiamolo mai quando si parla e si legge Leopardi non è un pensiero e basta è un pensiero poetante è un pensiero della poesia nella poesia con una poesia e del resto ecco io devo dire che anche un motivo che insomma condivido con l'autore è che la poesia di pensiero detto in maniera diversa mi interessa mi piace mi commuove molto di più che la poesia lirica o dove si riversa l'io lirico del poeta ma invece è un poeta di pensiero ovviamente secondo me insomma e questo è il caso e questo è il caso e questo è il caso anche se non insomma se non direi ecco a mio parere del del discorso e dei frammenti di cui ora finalmente parlerò di questo libro di Antonio e anche dei libri precedenti che hanno avuto un successo incredibile tutto sommato perché appunto ripeto libri di frammenti eppure la gente vuole sapere cosa è stato detto dai grandi poeti su appunto sulla malinconia sulla nostalgia e ora qui e anche sull'amore e dunque ecco quindi io dico questo appunto non so se si parla di visione in fisica fisica poetica non si può dire fisica ecco c'è il discorso diviso non so la fisica la morale la politica l'astronomia non so per dire grandi quadri e fisica poetica morale poetica politica o antropologia poetica fisica celeste quest'oronomia che tanto l'importanza ha nella scrittura di Roberti poetica ecco dunque ecco quindi questo discorso che fa prete attraverso i fondamenti attraversa proprio grandi testi della nostra narrativa della nostra poesia della nostra perché dico nostra no scusate della nostra come esseri umani voglio dire ma non come italiani ecco intendiamoci della narrativa della poetica della musica e della pittura e della scultura attraverso queste nella prima parte sedici figure figure fondamentali poi c'è un intermezzo tra queste sedici figure che non sono poche c'è un intermezzo che invece è concentrato sul convivio sul lavoro nel convivio e vedremo rapidamente poi anche più a fondo questo tema e infine c'è una parte finale più conversevole se posso dire che è divisa in voci non sono più figure sono sei voci che la terza è una parte ecco allora vediamo le prime due figure e su queste forse io mi fermo di più perché non posso fare tutte sedici su ogni figura tratta i vari autori in te allora le prime due figure sono l'apparizione e il turbamento l'apparizione perché è l'inizio è l'inizio l'apparizione comincia con l'apparizione dell'angelo che annuncia Maria l'annunciazione appare appare l'angelo questo è la prima l'inizio perché si svolge anche diciamo la storia di questo tema e il cosiddetto colpo di fulmine cioè quando appare che passa qualcosa di magico e passa attraverso il lampo dello sguardo attraverso gli occhi e ci torneremo perché si può dire fin da ora perché questo è un tema che parte da Beatrice nella vita nuova c'è un incontro a nove anni a diciotto e da lì poi c'è la regola di amore che nella dottrina d'amore nella poesia trovadorica nella poesia del trecento è che l'amore passa dagli occhi nella dottrina d'amore della regola d'amore e che è la luce la luce che passa dagli occhi allora arriviamo un po' rapidamente ma poi magari c'è qualcos'altro ma al novecento è il lampo dello sguardo che in francese perché partiamo immediatamente da una grande poesia dove questa è proprio l'apparizione e la poesia di Baudelaire nel Fleur du Mal ha una passante voi tutti sapete che Antonio ha tradotto i fiori del male e è beato lui anche se deve essere stata una prova non allora la passante i primi versi è alta slanciata vestita di nero eccetera e e poi dice un lampo poi la notte un clair qui dal mio fugitiva bellezza il cui sguardo mi ha fatto rinascere all'improvviso ora non è questa la sua traduzione ma e poi il finale è questo oh tu che avrei amato oh tu che lo sapevi allora questa è veramente l'apparizione perché lei può scompare nella folla nella Parigi moderna eccetera eccetera quindi e però appunto insomma non c'è solo l'angelo e la passante ma c'è Werther anche Werther ha lo stesso e anche nello è di nuovo un'apparizione apparizione attraverso gli occhi Anna Karenina o Karenina che scende dal treno qui se non ricordo male l'apparizione è nello sguardo di lui cioè lei vede Tevronsky che la guarda e Simone ecco e poi secondo appunto dice prete le fanciulle in fiore quando c'è il primo incontro con il gruppo delle fanciulle in fiore in Proust ma veniamo agli occhi per rimanere sugli occhi gli occhi di Madame Chauchat nella montagna incantata dico ancora io ma non c'è la montagna magica che l'incontro Castorp e Madame Chauchat che ha che è russa di origine se ricordate e che ha gli occhi asiatici grigio-verdi e che li ricordano gli occhi kirghisi di un suo compagno quindi già si entra non solo l'albo dello sguardo di Madame Chauchat ma l'asia attraverso questi occhi in questo colore grigio-verde insomma tutte cose bellissime che appunto spingono per chi non l'ha letto a comprarsi immediatamente la montagna ma non le viarete chi l'ha letto a andarsi a rivedere eccetera e quindi Thomas Mann allora qui c'è la mia prima obiezione che forse te ricordi aveva già fatta per telefono che l'apparizione nella ricerca proustiana perché per l'appunto avevo appena finito lavoro sulle traduzioni inglesi della ricerca tutte le traduzioni inglesi quindi l'avevo in mente abbastanza allora non è quando passa il lupo fluttuante delle fagiure in fiori di cui all'eroe in fondo dice si belle ma insomma non è nepporto anche ma l'indimenticabile lampo turchese superbo e rapace dello sguardo del barone di Charles nella sua prima aristocratica e orgogliosa apparizione quando l'eroe è ancora un po' un ragazzino e lui lo guarda il barone folgora e lo folgora l'eroe della recherche e folgora anche il lettore è un tema questo che segue l'eroe chavarista in questa grandiosa sinfonia parlando con termini musicali questo è un tema che percorre l'intera opera fino alla Don de Trouvé il tempo ritrovato l'ultimo l'ultimo libro l'ultimo volume quando il narratore scopre e capisce finalmente la predilezione di Charles per l'Efebo cioè gli piace gli piacciono gli Efebi infatti poi si scende in maniera tremenda perché insomma però ecco io vi volevo leggere quello che viene detto l'Efebo la cui forma la traduzione è mia perché non ce l'ho la traduzione italiana intagliata nello zaffiro che erano gli occhi di Monsio di Charles dava al tuo sguardo quel non so che così particolare che mi aveva spaventato il primo giorno a Balbeck poi il Charles decale sempre di più finché il colpo apropietico lo porta alla distruzione e gli occhi vedranno infine il loro splendore prima di spengersi per sempre è bellissima questa traiettoria di Charles questo è tutto attraverso questi occhi di zaffiro siamo sempre con lo stesso colore noto che gli occhi veri hanno più fanno colpo lo spavento lo spavento c'è qui c'è come dice dice è faille sono ragazze qualche chose così particolari ma è è faille le prime giorni mi aveva spaventato qualcosa che c'era in questi occhi perché beh il turbamento è fatto anche di spavento è uno spavento presado del dolore che infliggerà l'amore e qui cito subito Leopardi che di nuovo che dice perché il desiderio atterrisce in un pensiero del 16 settembre del 23 è confusamente consapevole delle bene che questo desiderio dovrà soffrire quindi contemporaneamente diciamo c'è il turbamento ma anche la paura fa parte del turbamento e qui diciamo il discorso parte dal cantico dei cantici chi è costei che sorge come l'aurora che poi passa ai cavalcanti chi è questa che viene che ognuno la mira e fa tremare di carità dell'aere anche qui cos'è questo tremore è spavento insomma scusate mi fermo un po' ma se no veramente diventa un po' un elenco non posso fare non posso parlare di tutto non posso quindi alcune cose poi avanti e l'esempio massimo di questa situazione di spavento e desiderio che atterrisce è naturalmente Saffo non appena ti guardo subito la voce mi manca la lingua si spezza improvviso un fuoco sottile corre sotto la pelle si offusca lo sguardo rombano le orecchie un freddo sudore mi bagna mi scuote un treno e più verde dell'erba di vento e poco lontana dall'essere morta sembro a me stessa frammento notissimo di Saffo che lo pseudo longino e longino vero non sono mai capito nel famoso testo del sublime ci dà come un esempio massimo del sublime appunto del registro diciamo più alto della literatura perché contemporaneamente il corpo e la passione e la mente esprimono contemporaneamente attraverso il corpo insomma va bene ma basta basta su Saffo però naturalmente ecco cioè è per farvi vedere la risonanza che ha questo libro o naturalmente c'è un libro poi arriviamo al novecento in cui lo troviamo anche nel titolo I turbamenti del Giovanni e qui siamo a Musi che lo lasciamo da parte e ancora voglio citare un esempio di turbamento senza spavento che è Ernesto di Saba che è un librucino poco noto perché Saba è un grande poeta come sapete ma che è bellissimo ecco questo potrebbe essere una spinta chi non ha letto Ernesto questo ragazzino che fa il fornaio si impolvera di farina insomma è un librino straordinario di turbamento turbamento di chi lo guarda ma ma senza spavento va bene allora a questo punto c'è una seconda serie cioè dopo queste due una seconda figura una terza figura riguarda i romanzi epistolari e anche qui naturalmente poi vedremo che sono le liezondos non so come è tradotto in italiano mi dispiace le reazioni le reazioni pericolose di Soderro della Gros dove il romano un perfido con la marchesa di Mertella tramano il circuito e l'annu di innocente giovanetta eccetera e qui appunto è un romanzo epistolare che ritravolge da veramente leggibilissimo Ovidio l'eroidess poi la francese de Clair madame la nuova Eloisa di Rousseau le lettere persiane di Montesquieu Werder di nuovo di Goethe perché siamo lettere come queste Jacopo Ortis del poscolo dove dice l'autore la lettera è il rimedio dell'assenza bellissima definizione perché è così è questo e questo questa figura ha un titolo che è preso da René Chard René Chard forse non è un poeta molto noto in Italia è notissimo in Francia e lui è stato un famoso capitano capitano Alexandre nella maquis nella resistenza francese e dopo questo periodo della resistenza aveva scritto i fogli di ipnos che sono stati tradotti che non sono poesie come le conosciamo noi nel senso che sono quasi cose insomma brevissimi brevissimi attacchi che ha tradotto Vittorio Sereni che è un autore sul quale ho molto lavorato scritto e letto e quindi conosco bene anche René Chard C-A-K-A-R e conosco i fogli di ipnos e avevo acquistato anche avevo trovato nella NLF di Gallimare insomma nel piccolo Tascabile di Gallimare un libretto che si intitola proprio Lettera Amorosa che è il titolo che ha preso Antonio per la figura della Lettera Amorosa questo libretto è splendido e la figlia di Chard ha fatto fare questa piccola edizione dopo che era stato fatto un libro d'arte un libro d'arte dove tutte le armi si collaborano e sono sostanzialmente poi gli amici di Chard che era nato surrealista e era nato alla poesia naturalmente come surrealista e che era quindi ha come primo autore con cui condivide il suo testo Jean Arp e poi Georges Braque dieci anni dopo quindi il primo esce negli anni primi anni 50 il secondo negli anni primi anni 60 ma sono testi che René Chard scrive nel 45 subito dopo la guerra questa lettera amorosa titolo che lo stesso René Chard riprende da Monteverdi un madrigale messo in musica da Monteverdi di chi il madrugale ora non ricordo Claudio Achillini 1574 1642 quindi c'è allora c'è all'inizio una poesia Monteverdi che ne fa una meraviglia Chard che riprende questo titolo e fa un libro d'arte ora questo è così ma mi dispiace che non vedete che cosa è splendida ma sono in origine insomma diciamo erano delle mitografie messe in una scatola un libro mitoloso non ti so l'era insomma però ecco questo ci dà un'idea di di questo itinerario che compone poi questo diciamo libro d'autore dei legami che ci sono fra tutte le arti ecco perché avendolo in casa ho detto beh sono venuta a parlare di questo e passiamo ancora un'altra figura che mi è sembrata interessante che è la figura della seduzione la seduzione parte naturalmente dall'odissea dal simposio anche e ha qualcosa di divino nella sua ricerca e le grandi seduttrici donne sono Calizzo Circe le sirene sono figure del mito che hanno qualcosa a che fare con la divinità e le letture che ne fecero Orkheimer adorno e anche però le sirene ricordiamo il famoso capitolo Sirene di James Joyce dell'Ulisse di Joyce il nonno il nonno capitolo delle sirene poi c'è una cosa di Capca il silenzio delle sirene e un bellissimo racconto altro libro che sono andata a comprare e leggevo questo di Tomasi di Lampedusa è un racconto breve non brevissimo La sirena bellissimo 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 e poi c'è l'incantesimo della Maga Alcina nell'Ariosto naturalmente e la Maga Rimida invece nel nella Gerusalemme del Tasso si innamora non riesce a vedere Rinaldo addormentato e si innamora e dunque sbaglia tutti i suoi prodigi però di questo parliamo di questo quadro meraviglioso che sono andata a vedere di Nicola Poussin di appunto Rinaldo addormentato e Armida e quindi è la seduzione senza senza intenzione diciamo ecco e qui ecco tornando poi al libro c'è un altro un altro metodo diciamo che è abbastanza frequente è la cosiddetta ecfasis cioè la scrittura di un quadro che descrive il quadro questo lui lo fa spesso perché non si può appunto parlare della sorellanza delle arti dico così afferminile perché le arti si dice afferminile ma se non descrivendo perlomeno il quadro e quindi queste ecfasis sono belle perché il libro è intercalato da questi quadri raccontati ecco e quindi abbiamo l'ecfasis di questo bellissimo quadro di Toussaint che Armida non so il titolo e che è a Londra è a Londra comunque e poi c'è la musica e questo è ancora più difficile nel senso che insomma se non che ci sono qui degli episodi per esempio Baudelaire assiste nel 1861 a un 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 teatro una esecuzione del Tannois e c'è il Venusberg che è appunto il luogo dei sensi dove si si affascinano e si travolgono i sensi quindi il fatto di Baudelaire che va a vedere grazie alla conoscenza sua rende anche più avvicino un po' questo rosa nella musica che può naturalmente c'è Don Giovanni Mozart e da Ponte e delle riflessioni di Kierkegaard sul diario nel diario di un segnatore sulla musica proprio come suprema seduzione che è vero anche le canzonette se vogliamo no? e poi rapidamente qualche altro qualche altra figura amicizia e amore il tema che da Platone Aristotele Ciceone e qui cito solo una frasetta di Montegna se mi si chiede di dire che c'è Antonio anche il prego naturalmente se mi si chiede di dire perché l'amavo sento che questo non si può esprimere che rispondendo perché era lui perché ero io poi c'è il desiderio altra figura il desio da Paolo e Francesco che poi ci sono le prime riflessioni sono quelle di più parte di nuovo che anticipa il pensiero novecentesco dicendo che il fondamento del desiderio è la mancanza da Freud a Lacan con il suo manco il manco la mancanza e Lacan con la mancanza Marcuse Deleuze Gattari e addirittura lo struggimento della sua origine diciamo il desiderio come struggimento nelle poesie occitaniche Bernard von Grandorn o anche in un topos delle poesie provenzali e medievali L'amor dell'ombre L'amore da lontano da lontano che soffre Rodel eccetera fino alla bella tetta di Cavancanti Guido e vorrei che tu era poi mio eccetera questo è il desiderio sempre fino all'amore che ruba il cuore che ruba il cuore questo è Gaspar la stampa e le meravigliose rime di Michelangelo mi dispiace di udire continuamente bellissimo meraviglioso però come vedete stiamo veramente ai massimi delle nostre arti Michelangelo delle rime di cui cito tre versi come può essere che io non sia più mio oh Dio oh Dio oh Dio che mi hai tolto a me stesso l'amore che ha rubato il cuore poi un'altra figura molto direi che mi ricorda molto insomma tanto lavoro che ha fatto Antonio Prete poesia d'amore e cosmologia e questo era il tema dell'ultimo corso che è stato tenuto dal professor Prete a Siena e che dalla sposa del Cantico dei Cantici che abbiamo già citato col commento di origine alla commedia di Dante perché con tutta la cosmologia amorosa all'orizzonte cosmologico dell'eopardi come spazio del suo interrogare che fai tu pruna in cena e queste sono delle grandi intuizioni insomma che a noi funzionano fino alle cosmografie pascoliane non funzionano no funzionano nel senso che agiscono agisce no e le cosmografie le cosmografie pascoliane visionarie e poi anche Char Arluzzi Zelland insomma io ora qui dico proprio solo dei nomi poi c'è ancora la lingua dei Mistici la notte oscura di Giovanni della Croce che sono otto strofe equinarie in cui la voce femminile narra l'avventura notturna che porta l'amata verso l'amato questi il mistico e qui c'è una cinque o sei taggine bellissime un'altra ecfrasis come vi dicevo descrizione del quadro di Tiziano amor sacro e profano che conosciamo anche di solito molti di noi qui poi aggiungo una piccola cosa una ecfrasis ancora si potrebbe fare di qualche notturno barocco di George Latour che si avventura verso te poi l'amore orizzontale è l'agafe cioè l'amore a livello sociale che è contrapposto all'amore verticale dei mistici che invece è una specie di chiusura nel buio della mente che va verso l'essere amato che magari è Dio ma ecco Dio è amore così comincia la prima lettera di Giovanni e poi anche nel Vangelo troviamo appunto questo amore e il primo grande poeta dell'amore per l'esistenza è San Francesco ma forse anche qui no ma senza ma ma insomma forse qui mi è venuto in mente che si doveva citare appunto viene in mente perlomeno ecco Martin Buber Buber o Levinas insomma dove però l'amore di Dio o per Dio passa per l'amore del tu l'altro cioè l'idea dell'altro no che che poi si rifà a un comandamento ama il prossimo tuo come te stesso impossibile però è passata da questo l'amore per Dio ama il prossimo tuo come te stesso ora questa finisce qui la mia cavalcata forse attraverso tante figure che però volevo rendere un po' l'idea anche di questo impulso a continuare anche se il bello è anche sostare e ho sostato spero non troppo come ho fatto con Baudelaire con Char aggiungere anche altre cose deviare insomma è un libro volevo dire che vive ecco che vive la seconda parte ecco c'ho ancora una domanda su questo ma insomma come dicevo è il simposio è un intermezzo sono 50 pagine e qui è la lettura del commento latino di Marsilio Ficino sul simposio di Platone Ficino racconta a Lorenzo dei minutici cosa parlerà particolarmente il professor parlerà il professor che dunque questo seminario era tenuto nella bellissima sede dell'università di Siena prima che andasse a finire nel ex manicomio che era come si diceva allora ci si trova il manicomio e che era invece Palazzo San Galgano un palazzo un antico palazzo del 500 con un giardino meraviglioso dove si tenevano questi seminari e che tra e volta come scrive si prolungavano nel pomeriggio fino alla cena nella piazza sotto il campo di Siena quindi anche io ricordo straordinario di questi seminari e in particolare anche io poi usavo andare anche a sentire gli altri e spesso andavo a sentire gli altri dunque questa atmosfera di empatia e qui c'è il racconto di Doro a Glaucone del racconto che fa Aristodemo del banchetto in casa di Adratone dove Aristodemo aveva proposto a Socrate di partecipare quindi è un racconto di un racconto e osserva prete come se dell'amore si potesse parlare solo per sentito dire è una bella osservazione ecco qui c'è il mito di cui poi appunto io non entro da Aristofane sull'unità originaria tra maschio e femmina a dialogo poi Socrate e Diotima dove entra in scena non solo il discorso del femminile ma anche il discorso del bello cioè qui non è solo l'amore ma anche il bello che cos'è il bello e anche della differenza si legge al Dickinson Svetaeva Virginia Woolf naturalmente insamorante ma anche qui non entro basta 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 perché tutto invierebbe tutto il resto e poi non vuole fare il margine e salto la terza parte del paesaggio dell'amore solo dicendo che alla fine con la fotografia c'è il famoso bacio di Roberto D'Ano non so se voi l'avete visto sui ponti di Parigi un bacio travolgente che a molta parte poi nell'amore per Parigi su cui volevo fare una domanda a Antonio però basta applausi Comunque rispondo nel frattempo e poi, dunque, assolutamente il concetto di figura, mi chiedevi cosa, come intendevo figura, nel senso di una rappresentazione del sentire, tu hai elencato via via, dall'attrazione, al trugamento, alla seduzione, eccetera, questa figura è una forma di rappresentazione, è un modo della rappresentazione dell'amore. Quindi il libro è un libro percorso benissimo, interrogando anche le varie figure, entrando in dialogo con le varie situazioni, ed è questo, cioè le figure sono appunto queste rappresentazioni che condensano in un elemento, appunto, dico seduzione o dico attrazione o turbamento, intendendo questa parola, l'intensità rappresentativa di una serie di elementi del sentire che possono essere ricondotti in questo tempospazio che chiamiamo figura. Quindi non figura nel senso di Aurevac, la figura che annuncia, figura della tradizione degli esegesi, della tradizione dell'interpretazione biblica, eccetera, dove il concetto di figura è Adamo, figura di Cristo, cioè la figura qualcosa che rappresenta, qualcosa che deve viscerarsi ancora, ma figura invece nel senso proprio visivo dell'elemento rappresentativo di qualcosa che poi avvicinandoci noi possiamo rileggere espandendola e definandola dei particolari. Ecco, e l'altra domanda riguardava, appunto, sulla funzione di queste figure, l'apparizione, mi dicevi appunto, dicevi delle franciulle, in effetti, in effetti, è vero che dici che la prima immagine, diciamo, da cui è colpito come sguardo, come occhio a quella del barone, ma le franciulle in fiole tornano spesso, però, in tutti i libri delle ricerche, perché sono quelle immagini che ha avuto a Balbeck, e sono delle immagini in cui non c'è solo gli occhi, ma c'è la luce, che è un elemento che ha a che fare con gli occhi, perché l'apparizione la legava, appunto, agli occhi, ma in quanto, dandescamente, è la luce degli occhi, no? Teologicamente, poi, è la luce degli occhi, e nella luce degli occhi c'è la luce di Dio, il fulgore di Dio che si rivela negli occhi. Così è di Dante, così è la tradizione teologica medievale, che Dante e anche Cavalcanti ha esaltato, ma tu ci farei quella clarità, bellissimo verso di Cavalcanti, no? E fa tremare le clarità dell'aria, e dunque, questa luce degli occhi che impregna l'aria stessa, no? E fa tremare l'aria. E quindi, in questo senso, la luce delle franciolitorie e la luce di Balbeck è la luce di estire del pittore, è la luce impressionista, eccetera, no? Che poi, ecco qui, dialogo spesso nella ricerca. Ecco, poi, aiutami, qualche altra osservazione, da lì ci diceva a dire, no? Sì, alla fine avevo pensato di chiederti qualcosa, cioè, su Parigi, ah no, perché questo ultimo libretto che è appena uscito, lo segnalo anche, è, si intitola Album di un'infanzia nel Salento, e Album è proprio una cosa che la Pleiad fa sempre, sulle infanzia e di fotografie, Album, le IAD, e questo è un libretto un po' di fotografie scritte, diciamo, no? È un po' come, quindi io ho avuto come l'impressione che una certa modalità proprio di anche di scrittura abbia molto a che fare con i francesi, ecco, e con, così, appunto, sì, forse più che Parigi, diciamo, ecco, sì, Parigi come centro culturale e artistico. Sì, sì, infatti è così, cioè, la Parigi, poi è la Parigi, appunto di questa apparizione, anche la Parigi di Breton, no? di, di Najat che è la Parigi che ha presa, anche attraverso, osservata, attraverso gli occhi dei poeti, degli artisti, eccetera. E passo in poi, lo prendiamo magari il discorso, passo la parola a Garza e a Terizio. Grazie, innanzitutto, grazie ad Anna per l'invito, che ti è molto gradito, anche perché, diciamo, aggiunge questo libro alla lettura dei tanti che ormai ho di Antonio e sul quale, confesso, che ho dato l'esame di teatro italiana con le sue operette morali, e quindi, insomma, dagli anni 70, che leggo cose di Antonio con sempre grande piacere. Io non, naturalmente, Laura Barile è stata con un gusto molto raffinato e anche con un'attenzione molto specifica, diciamo, ha fatto vedere l'ampiezza e la qualità e i richiami che sono presenti nel libro alla letteratura, alle arti, alla musica, eccetera. Quindi, io mi s'affermerò affrontato, ma molto velocemente, su questo intermezzo che discute con il simposio di Platone e il commento di Marsile Piccino al simposio. Devo dire che il tema dell'amore mi sembra molto presente in Antonio, cioè va bene che Antonio parla di... ha affrontato tante passioni, ha discusso anche di tante passioni, però, se io vado indietro nel tempo, non solo in compassione c'è un capitolo in forma d'amore, ma si va addirittura a finito e infinitudine a infinito, e siamo nel 98 dove c'è un capitolo sull'amore. Quindi, insomma, è un tema che mi sembra molto forte, molto, diciamo, consonante con la sua idea di poesia, perché poi il rapporto tra poesia e amore, il rapporto tra poesia e pensiero, sono strettamente collegati. Anche in questo libro, quando parla dell'amore, parla dell'infinitudine dell'amore, quindi questa dimensione infinita dell'amore, che è anche la dimensione, la tensione della poesia, la tensione, un desiderio che non ha mai fine. Quindi c'è un rapporto che credo sia proprio del prete anche scrittore e poeta, oltre che del prete, insomma, studioso e comparatista. In fondo, questo libro è un'espressione di pensiero portante, secondo me, cioè è un'espressione esentificatrice della sua idea del pensiero portante. Ma andando al simposio, che io ho avuto l'avventura di leggere in greco, è stata anche quella una splendida occasione, è vero, con quello che dice Antonio già dall'inizio, che il simposio è un luogo fondativo del discorso occidentale sull'amore. Chi non può tenere il simposio come punto di riferimento e tutto quello che poi si è detto sull'amore. Antonio segue tutte le fasi. A me intanto interessa innanzitutto la cornice, giustamente, come è stato sottolineato, Glaucone chiede ad Apollo d'Oro di un simposio che si è attenuto, quindi un discorso del discorso, un discorso su discorsi, e quindi non si può parlare di amore se non per sentito dire, come si diceva prima. E questa cornice non a caso è ripresa dal commento di Ficino, cioè Ficino che, ovviamente, come sappiamo, si nutre di Platone, si nutre di Platone insieme al neoplatonismo, insieme all'edmetismo, in un sincretismo davvero straordinario, ma Ficino faceva parte di quella cerchia di amanti di Platone che ripeteva il simposio, il 7 di novembre, che si diceva fosse il giorno di nascita di Platone, rifecero questo gruppo, Pol Lorenzo e Medici, naturalmente, come magnate, rivivono il simposio di Platone. Abbiamo una documentazione precisa di due simposie, perché abbiamo appunto il Benedetto Colucci, che ce ne racconta nel Declamazione Uliber, uno urbano e uno suburbano, probabilmente quello suburbano non si tenne, ecco, qui c'è una questione filologica, sul fatto se veramente questi simposi furono realizzati o no, ma senz'altro almeno uno, quello urbano, a casa di Francesco Bandini, quindi di un altro industrio umanista, e il prete gioca con questa interazione, cioè legge il simposio di Platone, contemporaneamente legge il simposio raccontato da Ficino con i protagonisti dell'umanesimo fiorentino del Quattrocento, ed è un'intersezione estremamente rivelatrice anche del modo in cui questo discorso d'amore viene ripreso in un'altra atmosfera, che è quella, come vi dicevo, neoplatonica, che è quella di un umanesimo in cui la dotta religio si intreccia con la pia filosofia, in questa teologia cristiana che Ficino voleva promuovere per rinnovare il cristianesimo, quindi in una dimensione profondamente cristiana, che ovviamente non è quella di Platone, ma appunto questo nuovo ambiente, questa nuova cornice è estremamente interessante, perché rimette in gioco la figura di Ficino che in qualche modo, e questo mi sembra un dato interessante che integra quello che Antonio ha scritto, in qualche modo si presenta come un nuovo Socrate nella Firenze della fine del Quattrocento e un nuovo Socrate anche con le oscurità che Socrate ebbe nella sua vita per la scassa considerazione o addirittura l'odio da parte di molti ateniesi verso di lui. Perché io qui richiamo uno studioso statunitense, James Hankins, che ha scritto un saggio, il mito dell'Accademia Platonica di Firenze, nella quale, mi spendo con molta attenzione la documentazione che abbiamo, naturalmente non è molta, però ritrova che, insomma, non solo Ficino non era poi così ben gratuito, non era il più amato da Lorenzo De Medici, no? Perché dice in fondo, questo è un mito che si è diffuso, ma il portavoce dell'ideologia medica, dell'ideologia di Lorenzo, era aneopoliziano sostanzialmente. Ma dice anche delle cose abbastanza interessanti sulla vita e sul rapporto che aveva Ficino con Firenze, perché dice che questo rapporto con Lorenzo fu lontano e travagliato, non solo perché Ficino aveva degli amici che poi avevano partecipato alla cultura dei pazzi, quindi, insomma, erano avversari dei medici, ma anche perché Ficino aveva questa nomea, la sua paura, la paura di Lorenzo, era dell'opinione pubblica dell'essere associato a un nome ovviamente detenuto ateo e omosessuale. Quindi Ficino era ritenuto nella Firenze del tempo ateo e omosessuale, cosa che evidentemente non poteva piacere a Lorenzo, detentore del potere. E quindi l'idea di un Ficino che è un po' come Socrate, tollerato ma poco apprezzato dal popolo e anche dal potere, dettito a questo insegnamento orale, ricordiamo, anche questa è una cosa che mi ha colpito, perché spesso si dice dell'Accademia Platonica, appunto, come dicevo, in questo saggio che si parla di un mito dell'Accademia Platonica, in realtà non esistette veramente un'Accademia nel senso che diamo noi oggi al tema, ma certamente c'era un gruppo di amici che si ritrovava intorno a Platone, spesso si parla della villa di Carecci, della villa di Lorenzo, ma in realtà Ficino agì soprattutto qui, qui dico esattamente qui, nel senso che qui aveva la casa, i grandi appartamenti, il padre di Odati che era medico di Santa Maria Nuova, cioè dell'ospedale che era qui, e anche Ficino aveva avuto un appartamento, aveva ricevuto in omanzia da Cosimo, un appartamento proprio in questa via Sant'Egidio. Quindi l'attività di Ficino è soprattutto un'attività orale, è proprio Ficino alla chiesa, la chiesetta che c'è qui accanto, che è la, ora non ricordo come si chiama questa chiesa, ma insomma è una chiesetta molto antica, almeno nell'origine, e quindi in questa via Ficino soprattutto dava lezioni, era un Socrate moderno, e un Socrate moderno che era anche mal tollerato dai suoi concittadini e dal potere, in questo caso dal potere di Lorenzo. E non è un caso che, diciamo, la conclusione del commento di Ficino a Platone, insomma al simposio, è una conclusione nella quale si racconta, della, ecco, volevo leggere esattamente proprio le parole dello stesso Ficino che scriveva, di amore appunto nella conclusione di questa riflessione sul simposio, onde nacque che l'usanza di Socrate, benché Gioconda fosse sopra l'altre, non di meno, molto più utile era che Gioconda, e secondo che testimoniamo al Cibiade, Socrate fu dei giovani assai più amato che amassi, assai più amato che amassi. E questa è la figura di Ficino, quindi c'è un riflesso, insomma, di Ficino in Socrate, un riflesso più in Socrate che in Platone, ecco, in questo volevo sottolineare anche, diciamo, una novità della visione dell'umanista Ficino, e c'è una, come dire, un gioco di riflessi che Antonio fa in queste letture intrecciate dei due autori, richiamando anche riflessioni novecentesche, per esempio c'è una riflessione che richiama Lacan, e il tema del desiderio nella psicoanalisi di Lacan, e questo gioco è uno degli aspetti di questo pensiero poetante di cui dicevo, nel quale, se posso aggiungere un altro, suggeri meglio, un'altra indicazione, un'altra così, una risonanza che, siccome mi è capitato di scrivere per l'Encivropedia dell'Umanesimo di Michele Filiberto, che uscirà, si spera, presto, un saggio sulle parti dell'umanesimo, sulle parti dell'umanesimo, è un punto di riferimento poco noto del rapporto tra l'Encivropedia dell'umanesimo e la canzone d'amore che fu scritta da Benivieni e che contiene in sé nell'edizione appunto da Lacan, contiene in sé sia il commento di Pico, il commento di Pico della triangola, sia, naturalmente, si richiama Audeamore di Ficino. Quindi c'è questo passaggio da Ficino a Pico nella lettura che Leopardi fa dell'umanesimo che ha degli aspetti di grande interesse. Ora, naturalmente, non ho il tempo e neppure che è giusto fermarsi su quella parte che su quei margini Antonio dedica esattamente specificamente a Leopardi e non può dedicare un grande esperto studioso di Leopardi qual è e questa parte diciamo esprime con grande attenzione una lettura della storia del genere umano in consonanza o in risonanza forse meglio con il simposo di Platone e questo è un altro aspetto estremamente interessante che ci porterebbe poi ad affrontare i temi propriamente leopardiani ma non credo che sia il caso mi fermo qui grazie Sì, allora riprendo brevemente la cosa che diceva la polizia e poi ritorno anche sulla lettura delle domande che faceva Laura prima Quanto abbiamo? Cinque? Dieci Forse anche ne prendo cinque così vediamo se c'è qualche domanda semplicemente perché appunto il simposio letto da Ficino perché poi in realtà la lettura di Ficino passa ai poeti del Cinquecento e quindi il pedarchismo italiano e non solo italiano europeo è impregnato di questa lettura dell'Avvieros dell'Eroso socratico fatta attraverso Ficino quindi questa è la ragione che mi aveva scritto e poi sono d'accordo con tutte le osservazioni che ha fatto per Laura viene la cosa che appunto hai conto benissimo diciamo la 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 sta sotto il libro cioè di fatto è un libro che raccoglie intendeva raccogliere le mie letture su questo grande tema dell'amore questo questo sentimento che lo parli che ha appunto il più universale dei sentimenti e più dolce e più universale raccogliere le letture o anche occasioni di studi seminari corsi un corso un anno lo feci agli inizi proprio ogni anno ottanta a Siena su il segreto e la confidenza del romanzo d'amore dell'ottocento per dire e poi sono tornato sulla poesia del cinquecento la poesia d'amore del cinquecento e poi sono tornato Laura citava l'ultimo mio corso e anche la lezione finale qui c'è Catrino che riconderà anche Laura mi chiesono i colleghi di fare una lezione finale come come saluto per andare quando andavo in pensione nella lavagna e scelto il tema poesia d'amore e cosmologia che poi è comparso qui quindi diciamo questo libro è un libro appunto come hai fatto tu è un libro di per vita cioè un libro della vita quindi sono raccolti quindi sono raccolte letture studi seminari è un libro d'arrivo appunto d'arrivo da tanto vorrei scrivere un libro che raccogliesse questo cammino quindi è una storia lunga non è un libro informato sì la scrittura è legata a certe stagioni recenti però il libro si è costruito e vivia nel tempo e poi l'altra cosa appunto che tu dicevi è che era un po' la ragione segreta del libro quella di spingere il lettore a leggere laddove non aveva letto e quindi suggerire farmi un po' un insegnante come è stato il mio mestiere che propone delle letture e quindi via via a come far tuturare questa materia e a trovare le quindi sei stata una bravissima lettrice oltre che interprete e quindi questo diciamo è il senso del libro vediamo se c'è qualcuno grazie no niente io volevo semplicemente mettere l'accento su qualcosa che non si è detto e cioè la lingua di questo libro che veramente tutti i lettori di Antonio Prete lo sanno come scrive ma in questo particolare libro mi sembra che siamo sempre a un livello che permette di ampliare di sostenere un'avventura sempre più approfondita eccetera e stavo leggendo ora a Chiara a questo inizio della voce del mare tanto per darvi un'idea nella notte due rive in mezzo una superficie nera che quando c'è la luna si accende di blu ed argento e le spunto il giovane Leandro la traversa ogni notte per incontrare sulla trasconda ero sacerdotessa di Atrodite consacrata come era Dea dell'amore eccetera eccetera cioè proprio per capire che questo libro va letto anche come un libro d'amore ma nella sua lingua cioè che c'è una perfetta coincidenza tra le forme del contenuto e quelle dell'espressione e io tenevo assolutamente a dirlo perché forse è l'aspetto più peculiar alla critica di Antonio Pretti appunto il nostro poeta poetante grazie Paola 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 fa il fine per questo diverso la mia domanda può seguire il filo di Pucco Paola e soprattutto se è anche una domanda involontaria che è venuta a Laura Valide quando si chiedeva come bisogna leggere a Tino Pretti come un romanzo e questo è stato un po' interrogativo per tanto tempo io ricordo addirittura all'epoca dell'interfezione della luna timidamente io la conoscevo da pochissimo e le ho chiesto ma professore ma non ti scrive prosa e ti fa il critico ma si autocensura come fa a scrivere se no quindi lei non ha risposto in qualche modo che un po' c'era una sorta di vigilanza più coerente più forte però si poteva anche scrivere prosa dopo tanto tempo dopo tanti anni non ti ricordo nel 2000 c'era l'interfezione della luna mi rendo conto adesso dopo aver letto album di infanzianza lento mi chiedeva appunto come bisogna leggere lei come scrittore come romanziere come saggista come poeta perché lei un po' rappresenta tutte queste cose e leggendo proprio l'ultimo dopo aver letto anche carte d'amore se l'ho trovato in Svizzera sono andata prenderlo in Ticino e mi sono detto questo lei scrive con questa capacità affabulatoria lei scrive sagge da romanziere e scrive prosa da saggista perché ad esempio anche in questo ultimo libro nella distanza sua rispetto all'infanzia nella distanza spazio-temporale c'è per esempio il trattato della lontananza ci sono tratti della compassione cioè tutto torna in questo suo modo di scrivere accattivante e tutto torna e lei è scrittore saggista poeta e lo si vede in tutto persino quando cita Baudelaire o alcuni poeti cita le sue stesse traduzioni quindi è assolutamente autosufficiente ecco io mi sono fatto questa idea che lei scrive appunto come critico come un critica come un romanziere quando scrive prosa scrive come un saggista e quindi completo lei come si definirebbe come secondo lei come si dovrebbe leggere come dovrei leggerla come noi dovremmo leggerla penso che la risposta sia nelle parole che dicevi cioè nel modo così nelle modalità di lettura nel senso che accade che quando uno scrive ci siano dentro il momento della scrittura degli echi anche di forme altre della propria scrittura e quindi si è sempre se stessi anzi bisogna cercare di essere sempre gli stessi pur anche se ogni volta la forma è diversa naturalmente perché chi traduce sa è giusto che sappia che sta dentro lo spazio e il tempo della propizione che scrive un saggio è giusto che stia dentro l'esperienza del saggio e così chi scrive una poesia sa che deve stare dentro quella lingua della poesia quindi io sono anche per l'autonomia delle singole lingue ma Baudelaire 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 diceva che lui non è un eclettico ma un analogista l'eclettico è colui che vuole andare in mare con un mediero con tutti e quattro i venti mentre l'analogista è quello che segue un vento e poi sta guardando quando cambia il vento per prendere l'altro vento è così che va il mediero mentre uno che pretende quindi l'eclettico vuole sommare le arti invece l'analogista è quello che quando sta dentro un'arte sta con lo sguardo verso le altre arti raccogliendo gli eti io cerco modestamente di muoverli dentro questa direzione tracciata da Baudelaire ma sono un montanissimo piccolo epigolo di tanti come tanti che hanno seguito Baudelaire diciamo tutto qui